Bella a tutti ragazzi bentornati sul mio canale e oggi sono qui con una partita su Shipment Shipment in cui ho fatto il mio record personale di 126 uccisioni Ok è andata molto bene, è una partita molto molto buona Shipment ovviamente questa mappa è la mia preferita Hanno fatto bene a metterla e un complimenti all'Activision e alla SlyJ Hammer Niente ragazzi vi lascio al video, intanto ci sarà la conversazione in parti Tra me e il mio socio Ben, anzi andate a iscrivervi anche al suo canale BenXX Basterà iscrivervi, vi lascio in descrizione il link E niente ragazzi un saluto da Factor Mode, alla prossima Il nemico prende B Prendiamo B Delivolo spia in volo Prendiamo B Prendiamo B Prendiamo B Contatto nemico a Kaser Contatto nemico a Bersa Kaser perduto Combattere in zona Aereo spia partito e in cerca di bersaglio Paracatutisti in attesa delle cose Paracatutisti in volo Cuoco d'artiglieria nemico A riparo Prendiamo l'obiettivo Bersa Guardamento nemico A riparo A riparo A riparo Contatto nemico a Tampon No Catturia blockade Il nemico cattura Anton Il nemico cattura Anton Il nemico cattura Anton Cuoco d'artiglieria nemico a riparo Prendiamo l'obiettivo Kaser Bombattamento nemico a riparo Kaser catturato Contraattaccare Contatto nemico ad Anton Il nemico a Bersa Servono rinforzi Perdiamo l'obiettivo Bersa Contatto nemico a Bersa Contatto nemico a Bersa Aereo spia partito e in cerca di bersaglio Prendiamo l'obiettivo Bersa Il nemico a Bersa Avistato Occupiamo Anton No Kaser è il nostro Bombattamento nemico a riparo Prendiamo A Il nemico cattura Kaser Kaser perduto Anton sotto controllo Il nemico cattura A Bersa Colpi d'artiglieria sulla zona Bersa Il nemico prende B Paragatutisti nemici in volo Bruno occupato Tragliere aereo in zona Bersa Bersa A riparo Bersa Sono a 63-17 Sono già A metà partita Magari faccio il record Stavolta Ovviamente la postazione Da solo lo preso Saranno spaventati quegli atiri Che cosa fa questo trapporto Domenio G G Sendete in cappo E onorate la paga Tutti nemici in volo Prendiamo B Prendiamo B Sendete in cappo Sendete in cappo Sendete in cappo Ma porco Dio Arriva un mitragliere aereo di Mipo Arrivano Le ragazze E' un mitragliere aereo Anca poco De ranton Il nemico Cattura Crisel Noi Cazzo Non è più che fare Occisioni Forza Cutana Ah! 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 Merda! Ah! Ah! Un nemico, un progetto a me! Oddio, la tristina! Ah! 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 Arriva un misagliere aereo nemico! Arrivano! Ah! 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 Prendiamo A! Ah! 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 Perdiamo l'obiettivo Kaiser! Il nemico cattura Kaiser! Il nemico cattura Bertha! Perdiamo l'obiettivo Kaiser! Contatto nemico abberta! Il nemico cattura Bertha! Ma che falle, porco Dio! Oh! E' bella! Sì! No! 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 Facciamo qualcosa! Prendiamo C! Prendiamo C! Catturiamo perda! Catturiamo! Il nemico cattura a Berta! Delimono, spia, nemico, avvistato! Il nemico cattura a Berta! Oddio! Basta di lui! Prendiamo l'obiettivo, Berta! Anche a poco per Anton! Il nemico prende B! Prendiamo Anton! Il nemico cattura a Berta! Il nemico prende A! Il nemico prende A! Anton perduto! Un sasco nemico a Berta! Manca poco per Keisel! Sop. Sop. Il nemico cattura a Berta! Il nemico cattura a Berta! ... Oh Gia 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 Oh Gia